il santo rosario misteri della gloria nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen io credo in dio padre onipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio è nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno resuscitò da morte sale al cielo siede alla destra di dio padre onipotente di là verrà giudicare vivi e morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la rimissione dei peccati la risurrezione della carne e la vita eterna amen o dio vieni a salvarmi signore vieni presto e mi aiuto gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti sante famiglie sante vocazioni sante conversioni fa che possiamo riconoscerti in ogni persona e in ogni casa maria regina della pace prega per noi e per il mondo intero san giuseppe prega per noi nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di gesù la sua ricetta prega per noi e No, 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 no. Il terzo giorno, Pietro. Il terzo giorno. Ricordi che cosa disse Gesù? È necessario che io sia consigliato nelle mani dei peccatori e poi ucciso, per poi risorgere. Il terzo giorno. Allora questo vuol dire che è vivo? Allora questo vuol dire che è vivo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. e donaci, santi sacerdoti, sante famiglie, sante vocazioni, sante conversioni. Fa che possiamo riconoscerti in ogni persona e in ogni casa. Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Sveglia, fratelli, fratelli, sveglia, svegliatemi! Che succede? Se n'è andato! Cosa? Sì, Gesùa, se n'è andato! Gesùa! 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 Se n'è andato! Quando lo avete risultato? Fratelli, alzate! Gesùa! Fratelli, qua! Giovanni, vieni! Gesùa! Non, se n'è andato! Ma dove è andato? Gesùa! 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 È andato! Fratelli! Non c'è più! Gesùa! Fratelli! Sto andando a preparare un posto per voi! Andate! In tutto il mondo a predicare il Vangelo, ad ogni creatura! Vi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra! Sappiate che sarò sempre con voi! Sempre! Sempre! Meditiamo questa decina affinché, ricordando la promessa di Gesù, viviamo nell'attesa del suo ritorno. Preghiamo per i governanti e per tutti coloro che sono investiti di grandi responsabilità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci, santi sacerdoti, sante famiglie, sante vocazioni, sante conversioni, fa che possiamo riconoscerti in ogni persona e in ogni casa. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Terzo mistero della gloria. Contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pagano in Pugliano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal muore. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da te. OI JESUS! OI CHRISTOS! OI JESUS! OI JESUS! Come facciamo a parlare queste lingue? Lo Spirito Santo è con noi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. e donaci, santi sacerdoti, sante famiglie, sante vocazioni, sante conversioni. Fa che possiamo riconoscerti in ogni persona e in ogni casa. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Mamma. Sei arrivato. Bambino mio. Figlio mio. Il mio creatore. Potevo abbandonarti. Io sono solo una piccola mamma. Che anche senza capire, ha continuato ad amare Dio. Oggi i tuoi occhi lo contempleranno in paradiso. No. Oggi i tuoi occhi. Che anche se dove vagare. Meditiamo questa decina affinché contemplando l'assunzione al cielo della Santissima Vergine non ci stanchiamo di chiedere la sua intercessione per noi preghiamo per gli ammalati nel corpo e nello spirito e per coloro che si sono affidati alle nostre preghiere Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti, sante famiglie, sante vocazioni, sante conversioni fa che possiamo riconoscerti in ogni persona e in ogni casa Maria, Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero San Giuseppe, prega per noi Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra E un segno grandioso apparve nel cielo Una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo era incinta e gridava in prela alle doglie e al travaglio del parto Meditiamo questa decina affinché ammirando la Regina del cielo ci rallegriamo al pensiero del paradiso e della gioia eterna che Dio ha riservato a coloro che lo amano Preghiamo per le anime sante del purgatorio e per tutti i bambini mai nati, santi, innocenti, martiri Padre nostro, che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e donaci santi sacerdoti sante famiglie sante vocazioni sante conversioni fa che possiamo riconoscerti in ogni persona e in ogni casa Maria, Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero San Giuseppe prega per noi Ave 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 Maria Ave 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 Maria Salve Regina Madre di Misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di Eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime orsù dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine Maria Signore pietà Signore pietà Cristo pietà Cristo pietà Signore pietà Signore pietà Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici Padre del Cielo che sei Dio ha di pietà di noi Figlio Redentore del mondo che sei Dio ha di pietà di noi Spirito Santo che sei Dio ha di pietà di noi Santa Trinità unico Dio ha di pietà di noi Santa Maria prega per noi Santa Madre di Dio prega per noi Santa Vergine delle Vergini prega per noi Madre di Cristo prega per noi Madre della Chiesa prega per noi Madre della Divina Grazia prega per noi Madre Purissima prega per noi Madre Castissima prega per noi Madre sempre Vergine prega per noi Madre Immacolata prega per noi Madre degna d'amore prega per noi Madre Ammirabile prega per noi Madre del Buon Consiglio prega prega per noi Madre del Creatore prega per noi Madre del Salvatore prega per noi Madre di Misericordia Summer prega vergine prudentissima prega per noi Vergine degna di onore prega per noi Vergine degna di lode prega per noi Vergine potente prega per noi Vergine clemente Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio della santità divina. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Causa della nostra letizia. Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria. Prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre d'Avorio. Prega per noi. Casa d'oro. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei veri cristiani. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato originale. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della famiglia. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Prega per noi. Agnello di Dio. Prega per noi. Amen. Prega per noi. 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 Prega per noi.